Grazie a tutti. Non perderò tantissimo tempo a parlare della biografia di Mattei prima degli anni più caldi, degli anni che ci interessano maggiormente. Marchigiano, classe 1906, figlio di un carabiniere che ebbe il merito di arrestare un brigante, il famoso brigante Musolino, e di una madre profondamente cattolica. Dico queste piccole note biografiche perché saranno poi molto importanti per la vicenda personale, per la crescita politica di Enrico Mattei. Potendo scegliere un momento particolare da cui iniziare la nostra narrazione, io sono solito scegliere un giorno preciso. Questo giorno è il 28 aprile del 1945. Enrico Mattei ebbe un ruolo di primo piano nella resistenza. Fu una delle figure più rappresentative, più importanti delle formazioni partigiane e bianche della democrazia cristiana. E a guerra finita, nello stesso giorno in cui Mussolini veniva ucciso, riceve una carica che non era propriamente in linea con l'importanza della figura in quel contesto, che è quella di commissario straordinario per la liquidazione dell'Agip. Facciamo un piccolo passo indietro. L'Agip era una creatura che era sorta negli anni 20, durante il fascismo, ed era sorta ovviamente con l'obiettivo di in qualche maniera iniziare a tutelare quelli che erano gli interessi energetici, gli interessi petroliferi in tutta la filiera del nostro paese, dell'Italia. Azienda che però, nonostante diverse esperienze sia in, ovviamente nel nostro paese, sia in Europa orientale, sia in Medio Oriente e Nord Africa, non ebbe quei risultati, quei grandi successi che invece il fascismo si aspettava che avrebbe realizzato. In maniera ironica e anche per denigrare in maniera popolare questa realtà, veniva chiamata Associazione Gerarchi in pensione, per dire che chi cadeva in disgrazia presso il regime veniva piazzato in questa realtà, appunto per svernare, perché le possibilità di operare in maniera seria erano abbastanza limitate. Questa, come dico sempre, è una critica un po' ingenerosa, perché effettivamente l'Agip formò dei quadri e formò un'esperienza professionale, industriale, che poi invece avrebbe raggiunto dei risultati incredibili, solo che servivano delle condizioni che in quel momento non c'erano. Facendola abbastanza breve, torniamo al nostro giorno fatidico. Enrico Mattei ha sicuramente avuto delle esperienze professionali in ambito chimico e in ambito industriale, ma non ha capito bene ancora cosa fare della struttura che gli viene data. Anzi, inizialmente era favorevole appunto a liquidare questa realtà. Era favorevole perché sembrava uno di quei, oggi li chiameremo, classici carrozzoni statali o parastatali, inefficienti, creati appunto dal regime con scarsi risultati. L'idea di Mattei cambia progressivamente, cambia progressivamente perché tutta una serie di pressioni, sia da parte degli americani, sia da parte della grande industria privata, lo portano a dubitare dell'azione che gli era stato chiesto di compiere. Lui dice, io non sono un bambino, sono un adulto, prima di rompere un giocattolo devo vedere che cosa c'è dentro. Si inizia a sospettire, dice, ma se questa cosa che mi hanno dato in mano, se questa realtà è così inefficiente, è così priva di sbocchi. Perché c'è tutta questa azione, tutta questa energia per farmela smobilitare? E appunto inizia una ricerca, una battaglia intestina che si concluderà solamente nel 1953, quando verrà istituita finalmente l'ENI, l'ente nazionale idrocarburi. combatterà questa battaglia appunto per salvare questa realtà e addirittura rilanciarla. In questo momento, in questo periodo, una fase importantissima è la scoperta di qualcosa che era successo durante la guerra. Durante la guerra, nell'Odigiano, nei pressi di Caviaga, nel 1944, degli operatori, degli impiegati, possiamo dire, dell'azienda di Stato, scoprono un giacimento di metano. Scoprono un giacimento di metano e tengono tutto nascosto, non dicono nulla. Non vogliono che, diciamo, i tedeschi sappiano di questa scoperta. Uno delle figure più rappresentative è Carlo Zammatti. Carlo Zammatti addirittura aderì alla Repubblica Sociale Italiana e questa informazione viene tenuta momentaneamente segreta. Quando Mattei dovrà relazionare sull'operato dell'Agi per fare una battaglia per salvare quello che gli era stato dato, scopre le carte di questa scoperta. E se prima c'era una fortissima divisione all'interno degli uffici di Via Moscova a Milano, della parte settentrionale di questa azienda, per le diverse scelte fatte in ambito bellico, come insomma capirete facilmente, in qualche maniera si cerca di collaborare per un fine comune che è quello di salvare l'azienda. Mattei si convincerà della necessità di questa operazione, non mancheranno addirittura delle mosse spregiudicate per arrivare a questo obiettivo, come in maniera proprio simbolica è quella della famosa benzina supercorte maggiore. Nel 49, quindi cinque anni dopo la scoperta di Caviaga e appunto quattro anni dopo la sua nomina commissario straordinario dell'Agip, viene trovato un po' di petrolio appunto a corte maggiore. E lui fingerà che i giacimenti trovati saranno eccezionali, insomma inizierà a far allettare, ad allettare l'opinione pubblica italiana con degli annunci sensazionalistici per i quali l'Italia finalmente era un paese produttore di petrolio e poteva ambire a chissà quale produzione di greggio, in realtà col tempo niente si sarebbe dimostrato, non si sarebbe dimostrato vera questa cosa, ma ebbe l'effetto propagandistico sperato di dare ulteriormente un punto a favore dell'Agip. Mi avvio subito a concludere in questo primo periodo, questa prima fase, perché l'Agip ebbe un merito enorme nel capire l'importanza del metano per la ricostruzione industriale, per la ricostruzione nazionale, solo che essendo un precursore ovviamente non aveva di fronte a sé tantissimi interlocutori capaci di comprendere l'importanza del metano, l'importanza del gas naturale e quindi veniva giudicato più sul petrolio e di petrolio effettivamente ne aveva trovato ben poco. L'azzardo, il blef di Corte Maggiore servì appunto a colmare questo piccolo, questo grande deficit. L'opinione pubblica italiana si convincerà in qualche maniera di questo sogno, di questo sogno di ricostruzione, all'interno, e questo è un aspetto molto importante anche per i periodi successivi che adesso ci troveremo ad affrontare, all'interno del panorama politico italiano Mattei ebbe tutta una serie di interlocutori in particolar modo, ma non solo, della sinistra democristiana, penso a Vanoni, penso a Gronchi, successivamente penso a Fanfani, che difenderanno insomma le sue stanze e combatteranno insieme a lui questo braccio di ferro, possiamo dire tra liberisti, quindi tra coloro che volevano liquidare l'Agip e darle in mano o ai privati o comunque insomma le compagnie anglo-americane, e invece coloro che difendevano un certo tipo di ricostruzione basata sull'intervento dello Stato. Ripeto, le periodizzazioni sicuramente hanno sempre un che di artefatto, hanno sicuramente in sé anche delle basi un po' fallaci, però servono un po' anche a orientarci. Possiamo dire, con appunto una dose di semplificazione, che la prima grande battaglia di Enrico Mattei, quella combattuta tra il 45 e il 53, portò appunto quindi a rilanciare l'Agip e a creare qualcosa di più grande che conteneva l'Agip stesso e che aveva tutta una serie di altre società al suo interno. Questa è una fase che è più legata al contesto italiano. Successivamente si giocherà un altro tipo di partita che non vedrà estromessa ovviamente l'Italia, ma che si combatterà all'estero. Uno dei termini, una delle espressioni più note è quella delle sette sorelle, queste sette compagnie straniere, cinque americane, una britannica e una anglo-olandese, che formavano agli occhi di Mattei e non solo una specie di cartello, una specie di trust e che combattevano il sorgere di aziende nazionali che potessero in minima parte rivaleggiare o comunque togliere anche solo piccole fette di mercato o di ricerca, di raffinazione, eccetera, degli idrocarburi. Finita questa prima fase, secondo me ci sono da analizzare tutta una serie di cambiamenti politici all'interno dell'Italia, in particolar modo all'interno di quel filone che abbiamo già citato della sinistra democristiana che in pratica archiviò l'esperienza, progressivamente il cosiddetto centrismo e guardò in quello che poi si sarebbe concretizzato nella prima metà degli anni Sessanta con il centro-sinistra, quindi con l'alleanza con il Partito Socialista Italiano. Dico questo perché Mattei fu un attore di primo piano anche a livello nazionale, anche a livello politico, addirittura verrà successivamente definito corruttore incorruttibile, appunto per dire che oliava la macchina dei partiti e delle correnti per fare gli interessi, quelli che lui riteneva, quelli che lui considerava gli interessi nazionali. Nel 54 la segreteria della democrazia cristiana finisce in mano a Fanfani, l'anno successivo riesce a fare leggere Gronchi alla Presidenza della Repubblica, quindi mette degli uomini, non uomini suoi perché ovviamente erano uomini che avevano un'autonomia sensazionale, che però erano uomini che condividevano una certa idea di politica economica e appunto una certa idea in parte con delle gradazioni significative ma con un minimo comune denominatore di indipendenza in politica estera. Sono gli anni che culmineranno, e vedremo poi queste fasi successive, con la nascita di quel filone, di quella corrente, possiamo definirla di politica estera, che si chiama neoatlantismo. Il termine venne coniato nel 57 ed era praticamente la consapevolezza la volontà di rimanere per carità all'interno dell'alleanza atlantica ma con basi paritarie rispetto agli altri alleati, quantomeno rispetto agli alleati europei. In questa seconda fase che ho delineato, quella appunto che va dopo il 53 e che riguarda l'azione internazionale dell'ENI, infatti ci sono tutta una serie di cambiamenti che modificano completamente il Mediterraneo e anche la nostra politica estera. Per quanto riguarda la nostra politica estera penso ovviamente alla questione triestina che viene finalmente risolta, quindi l'Italia ha una spada di Damocle in meno con cui essere in qualche maniera limitata e, usiamo il termine ricattata, a livello internazionale. Ma non solo, nel Mediterraneo cambiano tantissime cose. Io, diciamo, per quanto riguarda il mio studio mi sono concentrato principalmente sulla questione egiziana sull'Egitto di Nasser. Ovviamente non è solo l'Egitto, ma l'Egitto è un simbolo, è un osservatorio privilegiato per capire come Mattei si mosse e quali innovazioni portò a livello di politica estera, di politica mediterranea. L'Egitto, sin dal 52, faccio questa piccola parentesi per poi ricollegarmi al discorso Mattei, cacciò via una monarchia che era considerata troppo asservita agli interessi britannici e quindi occidentali e portò al potere, diciamo, prima dietro le quinte, poi in maniera aperta nel 54, quello che fu appunto Gamal Nasser, una figura che cambiò completamente la storia del mondo arabo e appunto del Mediterraneo. Cito Nasser e cito l'Egitto perché la crisi di Suez del 56 cambiò in maniera forse irreversibile l'idea che determinate potenze europee, in particolare mi riferisco a Francia e Inghilterra, potessero condurre i propri interessi in maniera neanche troppo neocoloniale, ma forse proprio vetero-coloniale, con interventi armati per limitare l'indipendenza di un paese e aprì degli spazi all'Italia che invece non si era macchiata di quell'azione. I fatti della crisi di Suez sono noti, però ripercorriamoli in maniera molto breve, giusto per far capire la bomba di quell'indimenticabile 56. Nel 56 Nasser, vista l'indisponibilità americana di finanziare un progetto infrastrutturale che lui considerava fondamentale, quello della diga di Aswan, per produrre energia idroelettrica per il proprio paese, vista tale impossibilità Nasser decide di nazionalizzare la compagnia che gestisce il canale di Suez, quindi una delle arterie marittime più importanti del mondo, per far utilizzare i proventi in favore della propria nazione, del proprio popolo. Quest'azione ovviamente estromise i capitalisti anglosassoni, i capitalisti inglesi e francesi, creando una forte avversione nei confronti di Nasser, avversione che portò ad un'intesa con Israele per un attacco armato. Nel 56 Israele invase il Sinai, venne lanciato un ultimatum risibile per cui i contendenti non dovessero combattersi ma dichiarare immediatamente un cessato del fuoco, come se l'Egitto potesse accettare di essere attaccato e poi di non rispondere all'aggressore e dopo l'impossibilità evidente dell'Egitto di accettare questo ultimatum, militari francesi e britannici vennero paracadutati in quella zona. Facendola molto breve, la spedizione si rivelò un disastro, non militare, perché Nasser ritirò immediatamente le truppe d'Al Sinai e non ci fu una grande resistenza, però sicuramente politica, perché tutto il mondo vide che Inghilterra, Francia e Israele avevano attaccato un paese con un pretesto, quantomeno Francia e Inghilterra, risibile, semplicemente per difendere degli interessi economici. Il fallimento e l'opposizione degli Stati Uniti nei confronti di questa manovra portò prima l'Inghilterra e subito portarono, portò Inghilterra e Francia a scegliere di doversi ritirare per causa di forza maggiore, addirittura l'Unione Sovietica minacciò un intervento armato, un intervento atomico contro tali potenze, una volta che aveva capito che gli Stati Uniti non le avrebbero supportate, e si concluse così una crisi che portò Nasser a diventare un mito, un eroe, non solo per il mondo arabo, ma per tutto il mondo dei non allineati, per il terzo mondo. Ed è qui che si insinua Mattei, non solo perché sin dal 1953-54 aveva iniziato dei rapporti con l'Egitto e si era creato un sudalizio molto forte, ma perché l'anno successivo in Egitto, e poi venne replicato in molti altri paesi, tra cui ad esempio l'Iran, venne inaugurata una formula, detta Formula Matteo Formula Eni, che rivoluzionò completamente il mondo del petrolio. Ripeto, non è una questione solo egiziana, verrà estesa in molti paesi anche più rilevanti da un punto di vista di ricchezze del sottosuolo. Questa formula cosa prevedeva? Qual era la rivoluzionalità di questa formula, di questa operazione? In quegli anni si era stabilito un sistema che era cosiddetto 50-50. Esisteva lo Stato produttore, quindi lo Stato che aveva i giacimenti, esisteva la compagnia petrolifera e si faceva 50-50. Quindi lo Stato X prendeva il 50% degli introiti e la compagnia di solito occidentale, di solito delle Sette Sorelle, prendeva l'altra metà. Mattei inventò un nuovo sistema, un sistema molto più vantaggioso per i paesi non solo africani, insomma, per i paesi che avevano, che accettarono questa nuova formula. Che era? Il 50% continuava a prenderselo lo Stato produttore, quindi il Paese in questione. L'altro 50% veniva suddiviso in una nuova società, cioè veniva corrisposto a una nuova società. Questa società, questa compagnia, era formata per metà dalla famosa compagnia, dall'altra dallo Stato. Quindi, la rispiego perché sembra un po' macchinosa, lo Stato continuava a prendere il 50% come paese produttore e l'altra metà veniva a sua volta divisa e una metà ancora veniva presa appunto dallo Stato. Quindi dal 50% si passava a circa il 75%. Non solo, l'ENI metteva a disposizione i propri fondi, i propri soldi, per cui se le ricerche non fossero andate a buon fine erano anticipate da l'ENI a fondo perduto. Quindi lo Stato avrebbe speso solamente nel caso in cui effettivamente ci fosse stato qualcosa. Non ultimo, questo associava le maestranze indigene, autoctone, alle capacità industriali occidentali, per cui non era più solo un rapporto, tra virgolette, da Stato che campava di rendita, ma che aveva a disposizione conoscenze industriali ed economiche appunto per avere veramente le chiavi del proprio sviluppo. Non so se questa cosa della formula cosiddetta 75-25 è stata capita, se no provo a spiegarla meglio. Per cui nel mondo del petrolio fu una bomba, perché effettivamente diventava più vantaggioso fare accordi con l'ENI piuttosto che con altre realtà, con altri paesi, con altre compagnie. Ci sono delle riflessioni molto belle che volevo condividere, volevo leggere, me le sono segnate, ogni tanto leggerò qualche documento diciamo riguardanti questi temi e in questo caso mi riferisco a un documento citato da uno storico Nico Perrone, che è insomma uno dei massimi esperti riguardo la questione dell'ENI e che venne prodotto praticamente per essere inviato alla Casa Bianca da un consulente e parlava di come l'Italia paradossalmente non venisse vista come una potenza coloniale. Sono poche righe ma effettivamente lasciano, insomma ci fanno riflettere. Uno degli elementi affascinanti consiste nel fatto che quantunque l'Italia fosse una potenza coloniale al pari di tutte le altre, di fatto anzi una potenza coloniale di più recente costituzione rispetto alla Francia, all'Inghilterra o all'Olanda e lo fosse divenuta mediante mezzi francamente brutali come nella guerra di Etiopia, nonostante tutto ciò le popolazioni del Mediterraneo lungo le coste dell'Africa e del Medio Oriente semplicemente non considerano l'Italia un'ex potenza coloniale e gli italiani ne hanno un considerevole vantaggio. Non sarei del tutto sorpreso se l'Italia divenisse il paese commercialmente dominante lungo il bacino africano e medio orientale del Mediterraneo, estendendosi lungo la strada fino alla Somalia e persino all'Etiopia. Sono delle riflessioni interessanti, effettivamente l'Italia non è che magari aveva avuto un passato coloniale più recente ma sicuramente non era esente dal colonialismo di altri stati, però anche grazie alla politica di Mattea, la politica italiana che in qualche maniera chiudeva una fase rispetto a una fase precedente invece coloniale, i popoli africani o comunque i popoli del terzo mondo ci rendevano atto che avevamo un approccio diverso e Mattei fu estremamente abile nel aiutare, nel favorire questa immagine che noi avevamo. Un altro documento, poi mi fermerò un po' con la lettura, è che riguarda due anni prima, quello che ho citato, riguarda il 59, l'Italia stava organizzando una visita ufficiale insieme a Nasser. Ricordiamo che Nasser non solo era colui che aveva nazionalizzato il canale di Suez, combattuto, in realtà attaccato, ma da inglesi e francesi e che era ovviamente notoriamente anti-israeliano, ma era anche uno dei più grandi sponsor, dei più grandi sostenitori della causa algerina. Ricordiamo che dal 54 al 62 la Francia fu impegnata in una lotta, in una guerra cruentissima in Algeria per mantenere il proprio dominio coloniale. Anche lì non ebbe successo, ma i ribelli algerini avevano in Nasser e anche in Mattei un grande sostenitore. Quindi Nasser, peraltro, non ho detto questo, è importante, sin dalla metà degli anni 50 si era progressivamente avvicinato all'Unione Sovietica, quindi era uno dei grandi nemici dell'Occidente, considerato tale. Questo è un commento che uscì addirittura su un giornale giapponese, vabbè, lingua inglese, adesso non è importante, è importante quello che viene detto, che commentando, quindi ovviamente verrete dei riferimenti a questa visita, ma fa delle riflessioni sulla stessa lunghezza d'onda di quelle che abbiamo appena letto e citato. Gli italiani hanno sottolineato la loro decisione di giocare grosso sul petrolio e la politica del Medio Oriente, invitando il Presidente Nasser della Repubblica Araba Unita a rendere loro visita in maggio e in giugno. Non si avverte, forse generalmente, che l'Italia, da un pezzo privata del suo impero, ma con un lungo passato di commerci con i paesi arabi, è diventata di nuovo un fattore di cui deve tenersi conto nella lotta micidiale di prestigio e di profitto nel Mediterraneo orientale. L'Italia è stata per molto tempo membro fedele della Nato. Sembrava perciò inconcepibile che l'attuale governo italiano potesse desiderare come ospite onorato un dittatore demagogo. Il Ministro degli Esteri Giuseppe Pella ha fatto una calda difesa dell'invito, riaffermando nello stesso tempo la solidarietà italiana con l'Occidente. Ma c'è sempre da porsi una domanda. Come mai questo invito? La risposta può trovarsi nel petrolio, in più petrolio ed in sempre più petrolio. Ho letto, diciamo, questi due documenti perché effettivamente mostrano da una parte un atteggiamento in qualche maniera privilegiato nei nostri confronti da parte di questi paesi, dall'altra un'incidenza che in quest'ultimo caso il petrolio e gli idrocarburi, la nostra politica energetica stava assumendo anche proprio nella politica estera nazionale nel suo complesso. Gli episodi sono tanti, insomma, adesso non li possiamo ripercorrere tutti, però effettivamente Enrico Mattei fu un capitano di impresa, ma portò avanti una politica estremamente sprogiudicata. Venne considerato, ho parlato di Francia, ho parlato di Regno Unito, ma ovviamente gli Stati Uniti vengono addirittura prima di paesi che vedevano in Mattei un pericolo. Addirittura Mattei in un'intervista arrivò a dire che lui era antinato, proprio contro la Nato, che sarebbe stato addirittura in grado di convincere Gronchi ad uscire dalla Nato, che anche Gronchi aveva delle posizioni molto critiche nei confronti dell'alleanza atlantica. Qui sono degli spunti, ma servono, insomma, a far capire il personaggio. La formula Mattei, la formula Eni, venne inaugurata con l'Egitto, ma paradossalmente è molto più ricordata quella con l'Iran, che fu immediatamente successiva. Addirittura, negli ultimi anni questo equivoco è stato molto affrontato di petto, si tende a dire che la formula Mattei venne inaugurata con l'Iran. Questo dipesa dal fatto che sicuramente l'Iran era ed è un paese che ha ingenti quantità di idrocarburi notevolmente superiori come rilevanza e come quantità a quelli dell'Egitto, ma dipendeva anche da un'estrema sensibilità di questo paese nei confronti delle questioni petrolifere, perché come sappiamo, insomma, Mossadegh venne estromesso con un colpo di Stato appunto per la difesa degli interessi politici autotoni. Quindi la questione iraniana assumeva un'importanza particolare in fatto di petrolio. Mattei fece accordi con tutti i più grandi paesi arabi, uno dei paesi con cui non riuscì a concretizzare questo accordo fu l'Algeria, uno dei paesi che è maggiormente ricca in termini di idrocarburi e vedremo perché, diciamo, più avanti non riuscì a concludere questo accordo. Prima, anche parlandone all'inizio, mi confrontavo e stavamo parlando del fatto che spesso ovviamente la morte di Mattei è stata vista come uno dei momenti principali della sua vicenda e su questo sicuramente non ci piove. Quello che però io ho fatto nel mio studio è sicuramente ripercorrere i momenti di scontro e, diciamo, la posta in palio in quel 1962, quando venne ucciso. Ma nell'analisi, diciamo, investigativa o comunque nel seguire le piste di un possibile mandante, cioè di chi effettivamente abbia ucciso Enrico Mattei, in questo non mi sono avventurato perché penso che purtroppo oltre una certa soglia non possiamo andare. Allora, Mattei morì il 27 ottobre 1962. Il suo aereo partiva da Catania, dall'aeroporto di Catania ed era diretto a Milano. Cadde nei pressi di Bascapè e con lui persero la vita il fedele pilota Irnerio Bertuzzi ed un giornalista americano che si chiamava William McHale. Mattei aveva fatto accordi con la Russia, aveva addirittura fatto un viaggio in Cina molto prima di Nixon, quindi aveva sviluppato un certo tipo di relazioni non guardando troppo per il sottile. Era un personaggio che in quel 62 aveva tutta una serie di partite aperte. Innanzitutto avrebbe dovuto fare visita a Kennedy, insomma, nelle settimane successive. Capite bene che per colui che veniva considerato un po' la bestia nera dei petrolieri, anche americani, un incontro con la nuova amministrazione democratica americana, un incontro con Kennedy, avrebbe in qualche maniera sancito un colpo significativo, quindi avrebbe rappresentato un'indiscutibile vittoria. C'è anche da dire però che parallelamente sembrava che la guerra con le sette sorelle, insomma, si fosse un attimo appianata dopo gli anni più concitati, sicuramente più duri di contrasto, questa situazione era andata un minimo scemando, quindi effettivamente per ogni pista, adesso ho citato la pista americana, ci sono dei pro e ci sono dei contro che porterebbero a quel tipo di responsabile. peraltro, Mattei, non dimentichiamolo, morì in contemporanea alla crisi dei missili di Cuba, negli stessi identici giorni della crisi dei missili di Cuba, quindi da una parte c'è il sospetto che un evento di così grande portata abbia condotto magari forze atlantiche e determinati apparati a volersi disfare di un personaggio che poteva essere considerato scomodo in caso di estrema conflittualità con l'Unione Sovietica. Dall'altra, parallelamente, c'era il discorso che essendo l'opinione pubblica dirottata verso il rischio di una terza guerra mondiale, persino la morte di un personaggio così importante come era Mattei poteva finire un attimo in secondo piano. La seconda pista è quella considerata francese, ora nessuna esclude l'altra, ma sto cercando di fare una rapida carrellata. La Francia, come abbiamo visto, fu impegnata fino al 1962 in un contrasto alla guerriglia algerina, quando Mattei morì la situazione era già risolta, ma rimaneva un grande odio nei confronti di quello che era considerato uno sponsor dei ribelli algerini e grande amico di Nasser, quindi anche a livello di triangolo era considerato in qualche maniera un antifrancese, ovviamente per antifrancese intendo di una certa politica della Francia, non della Francia in quanto popolo, e addirittura aveva ricevuto minacce da parte dell'OAS, un'organizzazione segreta terroristica che aveva come obiettivo quello di combattere i nemici della permanenza francese in Algeria. Quindi sicuramente la pista francese è una di quelle più, in qualche maniera, che presentava degli elementi di realtà, di possibilità. Ce n'è un'altra che è stata sottolineata negli ultimi anni e che vede effettivamente una strana coincidenza e riguarda i rapporti di Mattei con l'Iraq. Insomma, questo è un periodo che è pieno di eventi, è pieno di sconvolgimenti, specialmente per quanto riguarda la politica medio orientale. Per farla breve, nel 1958 in Iraq ci fu un colpo di Stato che portò al potere un generale, Qassem, e curiosamente Mattei aveva iniziato una serie di colloqui, una serie di collaborazioni con il nuovo Iraq per eliminare la presenza britannica, la presenza petrolifera in loco. La legge 80, quindi un'iniziativa legislativa del nuovo regime, strometteva i britannici da circa il 90% del territorio iracheno. Morale della favola, quando muore Mattei, a distanza di pochissimi mesi, un golpe militare destituisce Qassem con il suo vice Aref e una delle prime, se non la prima, iniziativa che viene presa è quella di cancellare la legge 80% in funzionanti britannica. Quindi questa è la storiografia, diciamo, recentemente ha sottolineato anche questo aspetto. Io, forse in maniera troppo semplicissima, mi sono fino adesso concentrato solamente sulla parte estera, cioè sui nemici esteri, gli americani, gli israeliani, i francesi, gli inglesi, ma effettivamente anche a livello nazionale, anche a livello italiano, Mattei aveva moltissimi nemici, alcuni, diciamo, detrattori legittimi, altri detrattori invece per interessi a volte anche indicibili. Ovviamente ebbe contro l'industria privata, ovviamente ebbe contro i settori più atlantisti che operavano nel nostro paese, abbiamo un nemico, mentre anche a livello di politica di centrosinistra, niente, dove? Mentre a livello di politica di centrosinistra aveva, insomma, nemici abbastanza guerriti, Mattei fu un grande sostenitore appunto della svolta verso il partito socialista di Nenni. Quindi a questo proposito effettivamente c'è chi parla di complotto italiano e quindi di una serie di personaggi, penso a un personaggio molto dibattuto, molto scuro, che è Eugenio Cefis, addirittura c'è chi dice che fosse il re il vero fondatore della P2 invece di Gelli. Insomma, tutta una serie di mondi che operarono in contrasto a questo personaggio fantastico che era Enrico Mattei. Pensiamo al fatto che Mattei addirittura arrivò a fondare un giornale per difendere i propri interessi, fondò il giorno nel 1956 perché diceva la Confindustria o comunque la grande industria privata mi combatte a tutta la carta stampata o comunque una parte significativa della carta stampata che fa i propri interessi, anche le aziende statali, anche l'azienda di Stato deve avere un proprio organo che faccia i propri. Non solo, negli anni successivi addirittura Leni arriverà a prendere l'AGI, l'agenzia di informazione. Non solo, vennero pubblicati diversi volumi che presero il nome di Stampa e Oro Nero che praticamente portarono a pubblicare tutti gli articoli che venivano fatti contro Leni anche a distanza di anni, quindi dimostrandosi spesso ingenerosi e poco lungimiranti appunto per mostrare gli attacchi che erano stati mossi sin dalla creazione dell'Eni prima dalla salvezza, dalla tutela dell'AGI e vedere come in quell'arco di tempo invece Leni era diventata una realtà internazionale fortissima, temuta che in alcuni ambiti poteva rivaleggiare con realtà molto più forti. Ci sono diverse altre cose che volevo leggere velocemente e poi mi avvio alla conclusione magari possiamo stabilire un dibattito, insomma fare se ci sono delle domande c'è uno che è un documento che ho trovato qualche anno fa e che praticamente è un documento scritto da Fanfani nel periodo della sua segreteria della democrazia cristiana che è un documento interessante che non riguarda in prima linea, non riguarda direttamente Mattei però è interessante per capire come la guerra avesse rappresentato una cesura nei confronti della nostra politica estera. Apro e chiudo parentesi, è molto interessante vedere come questi politici del passato sviluppando un tema, magari scrivevano un piccolo documento, un piccolo pamflet di 8-10 pagine su determinati temi, partendo a volte da risorgimento quindi con un'analisi sul medio e lungo periodo anzi sul lungo periodo, oggi siamo invece alla politica del tweet dei pochi caratteri, effettivamente questo è abbastanza indicativo di come ragionassero e di come elaborassero politica queste figure. Fanfani scriveva Venendo ora all'Italia, noi vediamo anche che da noi c'è stata un'idea madre che pur tra le molteplici contraddizioni e rinnegamenti ha guidato tutta la politica estera dal 1870 fino all'8 settembre 1943 e questa si può riassumere nella frase politica mediterranea. La conquista della Libia, le clausole del trattato di Londra del 1915, la stessa politica fascista e le rivendicazioni che hanno portato l'Italia alla seconda guerra mondiale Tunisi, la Corsica, Malta, la Dalmazia non ne sono che le prove più evidenti. La data dell'8 settembre 1943 è veramente memorabile, tragicamente memorabile per l'Italia non tanto perché rappresenta una disfatta militare ma perché segna la caduta completa, irreparabile dell'idea madre che aveva sostenuto la nostra politica estera per i primi 70 anni dello Stato Unitario. Ho citato queste riflessioni perché mi sembravano diciamo in linea con il tentativo con la visione di Mattei di aggiornare la nostra politica estera su una base cooperativa su una base di collaborazione con i popoli del terzo mondo. Questi sono gli anni peraltro e veramente mi avvio diciamo a una conclusione che vedono il terzo mondo in particolare i paesi africani e asiatici impegnati in un'opera di in qualche maniera di volta a coagulare diciamo tutti quei paesi che non accettavano le logiche ferre della guerra fredda. Sono gli anni di Bandung del 55, sono gli anni di Belgrado del 61 in cui paesi che sentono stretta diciamo la logica bipolare cercano in qualche maniera di organizzare un terzo blocco. Ora ovviamente sono tentativi destinati al fallimento sono tentativi che presentano magari un forte valore simbolico ma un effetto pratico magari non così rilevante però effettivamente Mattei fu dal punto di vista italiano dal punto di vista dell'industria italiana una persona che è una figura che facilitò e che difese questi tentativi di emancipazione. Non a caso addirittura si parla dei ribelli algerini che possedevano addirittura i discorsi di Mattei insomma mentre facevano la guerriglia o di un'infrastruttura, di un gasdotto che avrebbe collegato, che sarebbe stata realizzata diversi anni dopo la morte di Mattei che avrebbe collegato l'Algeria all'Italia e che fu ribattezzata Enrico Mattei ma non dagli italiani ma dagli algerini quindi per far capire effettivamente di quale figura ci stiamo occupando oggi. Insomma io appunto sono arrivato alla conclusione c'è una frase che mi piace citare molto che non a caso ho scelto come apertura del libro all'inizio del libro che è io sono come Francis Drake un corsaro al servizio del mio paese effettivamente di Mattei non ci siamo più liberati lo hanno ucciso, hanno provato insomma con indagini condotte in maniera abbastanza diciamo approssimativa ma in realtà certosina per non arrivare alla verità insabbiare quella che era stata effettivamente la morte di Mattei il caso riaperto negli anni 90 e nel 2004 grazie al magistrato Calia finalmente è arrivato alla conclusione che all'interno del velivolo di Mattei ci fu una detonazione quindi che non si trattò di un incidente per decenni diversi sia appunto in ambito giudiziario sia in ambito giornalistico pensiamo a Montanelli che fino a anni recentissimi ha sostenuto non solo che Mattei fosse morto in un incidente ma chiunque sostenesse il contrario una specie di complottista, visionario eccetera pensiamo insomma a tutto quello che ha dovuto passare la verità per emergere si tratta di testimonianze che vengono ritirate all'ultimo momento si parla di video della RAI in cui un testimone fa un certo tipo di dichiarazione e praticamente con gli anni il lasso di tempo solo in cui quello fa quella dichiarazione scompare cioè c'è l'audio prima, c'è l'audio dopo ma in quel momento in cui lui dice ho visto un bagliore in cielo quello scompare diciamo si è arrivato alla conclusione che si trattò appunto di un attentato non sappiamo né gli esecutori non sappiamo i mandanti precisi sappiamo quello che ha fatto Mattei per il nostro paese concludo dicendo ricordiamolo insomma nella nostra azione quotidiana grazie per avermi dato la possibilità di parlare di Mattei grazie 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 grazie